Ciao a tutti, io sono MotorTondi e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con Nico Motorop, ti saluto. Ciao ragazzi! Fisca! Allora, oggi siamo qua con il suo califone che già conoscete tutti. Fisca, guarda! È un califone più, un 50. Motore rizzato, giusto? Yes! E cosa c'è da dire ancora? Niente, tu buone alla zio Billy Bollo. Niente, basta, non è chissà che come califone. L'unica roba, le forcelle ad olio. Le forcelle ad olio sono un po' desfate. Molto. Dai, ti faccio l'anteprima. E poi fai l'anteprima. Dopo ti corri tu. È il circuito da rally. Fisca, è il circuito da rally. Ovviamente ringrazio molto NicoMotovlog che adesso si sta divertendo a fare il suo giro su un circuito da rally che abbiamo fatto. E niente, l'unica anche che mi sta registrando il video. Siamo immersi nella campagna sandonatese. Qua ecco gli attresti che abbiamo usato appunto per apportare modifiche al circuito. Esso che qua e mi farà fare un giletto. Califone non a marce. Vada al motortombi. Vada al motortombi. Iscrivetevi eh, figli iscrivetevi. Possono... Ah, fermo, fermo. Vai, accelera. Accelera. Tutto corrente alternata. Un bel mezzo, un bel mezzo. Fisca, tutta Fiorentina, vedi? Fisca, dove ti porti? Cosa ci vuole dire il tondio? Cosa ci vuole dire il tondio? Cosa ci vuole dire il tondio? Sì, il tondio è meraviglioso. Vero? Sì. Ha delle farcelle talmente meravigliose che quando fai salti parli di morire. Scusate, devi mangiare? Devi mangiare, dai. Ciao ragazzi. Bene, e niente, ringrazio ovviamente Nico Motovlog che mi sta facendo il video. Fisca, numero uno. Iscrivetevi al mio canale e anche al suo. E niente, ringrazio Nico Motovlog ancora e niente. Ciao. Ciao.